guardate cosa ho trovato questo si trovava alle fornaci 20 anni fa 2004 andiamo con la festa guardate che festa che c'era ex fornaci vedete si sa se vi ricordate questa birreria 2.000 2004 guardate sta bella festa è guarda guarda eccolo la vent'anni fa ora si dice questo archivio di robbie gurizia tv 37 anni con voi guardate che roba guardate la festa guardate se vi riconoscete dopo la vedrete in moto questa ragazza guardate che roba è questa era una birreria vicino alle fornaci c'era il nome che l'ho messo prima guardate guardate che festa è non polgo ha detto non polgo salutiamo sempre con gorizia tv è 34 anni di store 37 anni guardate che roba archivio di robbie gurizia tv salutiamo la titolare e anche il titolare che c'era eccolo qua salutiamo guardate adesso è guardate adesso sta arrivando con la moto sta arrivando con la moto e adesso arriva quell'altra aveva detto come che va via questa è che è roba ragazzi che festa 2004 cari amici eccoli qua siamo alle fasi di conclusione cari amici speriamo che qualcuno si riconosca di questa festa con gorizia tv grazie mille chiudiamo qua bene con questa grande festa a luci nico ex come si dice adesso chiudiamo qua il servizio grazie Grazie.